...della categoria Super League, oggi siamo nel GP di Abu Dhabi e siamo... Buonasera, buonasera a tutti Allora, iniziamo subito con le domande in quanto manco odio della classifica generale ovviamente i piloti, in quanto la categoria costruttori è già stata vinta dalla Sauber appunto distente da Doizzi Allora, prima domanda, come... Ok Perfetto Ok Allora, Dado Ok, ehm... Bene, come sei? Eh, anch'io tutto bene Ho provato un po' poco per la gara, però dai Speriamo di fare un bel finale Vinci? Eh, io invece... ecco, ho provato proprio zero Sto ancora cercando l'assetto giusto, quindi... Eh, nulla Sarà una bella gara Chi affida il caso? Perfetto Allora, seconda domanda Siete nervosi per oggi? Non particolarmente Io no, per nulla, perché tanto... Cioè, non ho niente da perdere alla fine Vabbè, sì, la terza posizione Io... Anche se vinci dovrebbe vincere, se non sbaglio E tu non arrivare... Cioè, per... Perché tu arrivi a podio Mi sa che devi... Devi vincere per forza, vinci Eh, abbiamo 12 punti di distacco Ecco, io spero di non ritirarmi più che l'altro, dai Eh, sì, se non ti ritiri diciamo che è finito Però, però... Mai dire mai Perché infatti abbiamo Dado Itzi a 213 Standre 196 E De Grisciupac ho 182 Eh, eh, dai Allora, domanda per Dado Il tuo miglior piazzamento? Primo La migliore gara... Vabbè, poi tu Ok, Standre? Ok, Standre? Eh, ma nel senso che ho fatto sta stagione o...? Sì, miglior piazzamento Eh, è la gara a Monaco che ho vinto L'ho condotta quasi tutta in testa E è stata probabilmente la migliore Invece vinci? Eh, io invece il primo per quattro volte Eh, non mi ricordo bene le piste, credo Monreal, Catalogna Eh, Messico e... A me, quale che hai... Silverstone Silverstone Ok La vostra gara preferita La vostra gara preferita Eh, Germano Monza Monza Ma di questa stagione che ho fatto oppure in generale? Spero di no perché io... No, questa stagione dai Questa stagione? Eh, allora direi... Mmm... Messico Ah, io ho detto il mio piste preferita E quella in campionato invece? Quella in campionato? E... 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 C'è la gara preferita? C'è la... La gara che ti piace? No, no, no C'è la gara che hai fatto Non lo so, forse la prima E' un stadio Ok Io invece... Ah no, oh no Ok, scusate Vai avanti Ok, la gara che vorreste rivivere Ehm... Germania Sotto la pioggia Dico... Ancora Australia Io dico Spagna Per la rimonta su Joy dopo il drag through Ok Allora passiamo alla prossima domanda La vostra gara peggiore invece Spagna Probabilmente... Direi tutte le ultime gare che sto facendo Perché vanno una peggio dell'altra Io dico invece Monaco Perché a tre giri dalla fine sono riuscito a rompere Bene Il vostro antagonista principale nelle vostre battaglie Ehm... Dai Renato va Quindi Renato coni Per dado Io dico Joy Perché comunque Abbiamo uno stile simile E ogni tanto andava più veloce lui E ogni tanto più veloce io Quindi... Per me invece Best Che cosa ne pensate della pista di oggi Overo a Abu Dhabi Ehm... Una pista che mi piace Mi fa abbastanza miaggio Ehm... Ehm... Diciamo come una delle mie preferite Boh... Ehm... Boh... Una pista abbastanza lunga Ehm... No, non ho un parere particolare su questa pista A me fa schifo e vado piano Ok Direto Passiamo invece alla vostra pista preferita nel campionato in generale Monaco Monza 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 Singapura Singapura Ok Partendo da dado Che voto dai alla tua stagione? Ehm... Diciamo che ho un po' alti e bassi Ehm... Ho fatto Diciamo Una specie di monta Una scalata Fino alla cima Fino al secondo posto Quindi Sette e mezzo Stefano Io do Io do Alla mia prima parte di stagione Otto E alla seconda Un Sei scarso Io e cinque Quindi Sei vero con te stesso Nonostante le quattro vittorie Fatto schifo Eh... Tutti gli altri sono ritiri però Vabbè anche il lag ti ha condizionato Decreto lag Esatto Allora che cosa ne pensate invece della Junior League? Ehm... Un campionato che è stato fatto fino alla fine Devo dire che L'ha tenuto vivo Checco Che ha fatto la rivolta della vita Per cui Non avere successo alla fine All'ultimo giro Dove è armato Sì anche secondo me è stato un campionato molto divertente E ci sono anche diversi vincitori Quindi Molto combattuto ma campionato Mi è piaciuto Ok Per me la prima parte è stata abbastanza noiosa Con i soliti trionfi di Halo Mentre nella seconda parte Si sono viste Altre personalità Altre piloti Che sono stati veramente Che si sono fatti valere in pista Ecco In pista ecco Invece che cosa ne pensate della vostra categoria Ovvero la Dado? Dado? Dado Dado? Sì 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 Ci stavo pensando Della Super Sinceramente Visto che sono qui Praticamente da Tre stagioni Due ufficiali E penso che Sia Un gruppo Affiatato Fino di Di ragazzi Diverdenti Sucevoli Anche pazzi alle volte Che però In questo a stare insieme Secondo me È stato molto bello il campionato Sono arrivato quest'anno Ma Mi sono subito trovato bene Cioè Tutti sono stati molto accoglienti E Mi sono divertito Io invece credo che sia Uno dei campionati più puliti In assoluto Infatti Veramente Tutti molto corretti In pista E Fantastico Ok Per l'anno prossimo Avete già un obiettivo Sicuramente Migliorare il secondo posto Di quest'anno Quindi vincere Sì No io Non ne ho Proprio idea Cioè Spero anche Di partecipare Cioè Non so neanche se lo prenderò Al gioco L'anno prossimo Vinci? Io invece Spero di vincerlo Ok Quindi O lo vincete O non lo comprate Abbiamo capito Non è proprio così Allora Poi Il vostro pilota preferito Il vostro pilota preferito A caso Fisichella Ok Vi ispirate a qualcuno Quando corrette? Sull'asciutto Ad anonzo Sul bagnato Dove sta Presa Sicuro Coimino No no Io non mi spio Nessuno Cioè Presuntuoso Eh vabbè Personalità E' supermai Tau Io invece Dico Non so Ad Adoizzi Perfetto Allora Stato Non sempre Stato Ok Dato Definisce Con un aggettivo I seguenti Piloti Joy 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 E' Fortunato Telecomico No aspetta 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 Che cosa? Deve andare stai Eh io dico Costante Ah è vero Facciamo così Sì sì E io dico Osso duro Ok Allora passiamo direttamente a ste Dado No no fallo fare anche a Dado Fallo fare anche a Dado A te stesso Quindi Dado Un aggettivo per te stesso King of rain Ehm 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 Pulito Nanomalefico Teleconico Ovvero il sottoscritto Sfigato ma fortunato A volte sorprendente Veloce Migniozzetti Drogato Simpatico Amo i suoi capelli Poi Marco Mancini Poi Marco Mancini Ehm English Style Ok Ehm Bo 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 Lo so Bo Così English Humor Ok Poi Senato Comp Parrucchie Fenomeno Poi Yamoti Basta Quanti ce ne sono Dai tranquillo Ne mancano ancora 5 Ah Eh Ne mancano anche 5 Per fortire Ehm Dai dai ce la facciamo Yamoti Yamoti Costante Ok Spariamoli così veloce Lo dirò Vinci Dico Dico veloce E poi Morto Ha toccato E vinci Ah ok Ehm Io dico Veloce Quando vuole Ok Stendere Sfigato Eh Sono io Omosessuale Ma cosa Dai greci Un pacchio Travione Omosessuale Molto sexy Sex Sex Macro Sex Poi Checo Gamer Napoletano Furioso Nano Malefico Arom Allora Quindi con Gli aggettivi Per i piloti Vi ho finito Allora Le ultimissime domande Se stasera vincete Alla gara Con il pod In classifica generale Come insultate Correggio Correggio Io mi faccio un applauso Perché E' buono Non peco che mignotte Esatto C'è vinci Le gara tube così Sì È stato difficile Arrivare fino a qui Il cazzo sul volante Dai veloci che mancano 5 minuti E' stato difficile Arrivare fino a qui Sì Un pochino Nelle ultime gare Sì Vinci Non ho capito Che era Cora la domanda Se è stato difficile Arrivare fino a questo punto Sì È di brutto Allora adesso veloci Dovete essere Straveloci Allora E' meglio Mercedes o Ferrari 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 Manor Vettelo Hamilton Versabere Vettelo Maldonado T300 o G29 T80 T300 T150 Perfetto Assetto Corsa o Project Cars Autoscontro Assetto Corsa Gesù Cristo sul girello Ok basta Maldonado O il grandissimo Bic Eeeh Capichei hanno Bic 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 Ok Algersuari Grande Algersuari mitico Junior League Che trapparente è diventato Frocio Ok Junior League o Super League Com'è che si chiama la categoria dell'anno prossima? Boh Mettiamo Rookies League Perfetto Super Ok Due Che cazzo hai detto? Due Ex League Ok Salutatevi Ciao Ciao raga Buona gara Ciao troie mie Bocca al culo Un modo per convincere i fan a guardare la live Se non la guardate sicuramente vi mando di quella a casa Guardatela perché qui si aggiungono livelli di ignoranza assurdi Se raggiungiamo le 100 visualizzazioni stasera vi esco il cazzo Perfetto dai ragazzi subito a condividere Finito Si può andare Si può andare Possiamo lasciare i piloti Al loro dovere Io rimango da solo Suo letto Ciao raga Buona gara Buona gara Buona gara Buona gara a tutti Buona gara In culo alla balena A bandone a parte Quindi ragazzi Ci siamo Si stanno per partire Noi siamo qua Soli soletti Per seguirli Questo grandissimo GP di Abu Dhabi Inizialano le qualifiche ovviamente Qualifiche brevi E poi si avrà direttamente il GP 10 secondi alla partenza dalle qualifiche Vi ricordo che Joy è già campione del mondo E la Sauber è già campione costruttori Tanto siamo partiti La lobby Ha deciso di mettersi in moto Speriamo che poi avremo gli inviti Per rientrare in sessione Vi speriamo vivamente Se non siamo Fottuti Dovremmo trovare un metodo alternativo Per partecipare in sessione Comunque i piloti Manca solo Palonator E inizierà la nostra Cara amica sessione Vediamo se c'è qualcuno Che ci può fare compagnia Quest'oggi E non c'è nessuno Perfetto Molto bello Allora ci siamo ragazzi Siamo sul monitor dei tempi Per vedere i nostri piloti Stanno per scendere in pista Adesso vi faccio vedere il meteo Della sessione Abbiamo nuvoloso in qualifica E poi soleggiato in gara Quindi non si smentisce il meteo sereno di Abu Dhabi Dopotutto siamo Nelle Emirati Arabi Quindi ovviamente il meteo è abbastanza caldo E secco Allora Oggi vediamo vi ricordo I piloti partecipanti Sono nove Sono dieci contando anche me E sono De Greciupac Joy Vespa Palonator Bonura Stendere Cm Mancu Mix E Fitandre Allora De Greciupac È quarto in classifica generale Come vi ho detto anche prima Nell'intervista Joy è già campione del mondo Vespa è arrivato Un po' dopo Tanto Dadovizzi Non c'era in sessione Clamoroso Dadovizzi è entrato dopo Proprio L'hanno fatto startare la lobby Senza di lui Sarà molto felice Quindi Vespa Che è arrivato dopo Ha vinto Attenzione Squalifica per Cm Mancu Inizia benissimo la sessione E uh Attenzione Subito Si divertono i piloti Dopo che escono dei box Con Sandra Incredibilmente in forza India Ragazzi c'è un tasso di ignoranza A questo G Incredibile Non so se I nostri piloti Ci faranno vedere Veramente di tassi di ignoranza Estremi Comunque Standrake Di solito È in Sauber Si ritrova in forza India Non si sa per quale oscuro motivo Vediamo se gli altri hanno preso la loro macchina corretta Forse perché erano in sessione con me Quindi non si sono Resi conto di avere una macchina sbagliata Non ho avuto il tempo Comunque vi stavo dicendo Vespa Che appunto è Arrivato dopo Ha vinto già Molte gare Tra cui anche l'ultima in Brasile Poi abbiamo Palonator Che ha fatto un campionato Discreto Bonura Che ha fatto delle gare buone Stendere Che appunto È al momento terzi in classifica Poi abbiamo Mix Che è entrato anche lui Mi pare in contemporanea con Vespa Fitandre Che è cioè dall'inizio del campionato E Anche lui Diciamo un campionato Abbastanza normale E poi abbiamo C.M. Manco Che partecipa in entrambi I campionati Ovvero Sia Junior League Che Super League Allora Vediamo il primo Che farà sì nel suo tempo Dovrebbe essere Stendere In forsigli E chissà se questa macchina Li porterà bene Per la conquista Per lo meno Del podio In classifica generale Si lancia un po' largo Intanto c'è bandiera gialla C.M. Manco È stato subito squalificato Andiamo a stendere Apriccia curva 1 Esce abbastanza largo Portato poca velocità in curva Adesso la differenza si fa In questo curvone lungo A destra Un po' stretto È un tempo Molto alto Nel primo settore Per stendere Non Buonissimo Per essere un buon tempo Dovrebbe fare almeno Un 17 Vediamo qualcun altro Mix si sta lanciando Vediamo Degri Chupac Se c'è qualcuno Joy 18.2 Nettamente meglio di stendere Però Lag di Joy Clamoroso Ragazzi Clamoroso Lag di Joy Quindi ne terremo conto Io posso andare solo Non è che posso vedere Qui tanto Vespa 17.9 Con le super soft Ragazzi In una lezione di Watertime Nessate 0 Per Degri Chupac Vediamo stendere C'è qualcun altro Bess Sono in 5 In pista Ricordiamo Daduizzi Che è entrato dopo E poi Lo stesso C'è me manco Squalificato Per arcani motivi Quindi attenzione Stendere Il buon Stendere Che Si approccia Al terzo settore Qua Buona la frenata Leggermente al bloccaggio Allora Vediamo il tempo Per far registrare La pole della Junior League È stata 1.38 6 Vediamo Stendere Diciamo Un tempo Che sembra abbastanza alto È sull'1.41 41.5 Per stendere Andiamo subito A seguire gli altri Vespa Giro annullato Perché il tempo è bloccato Purtroppo Andiamo a Joy Sembra non lagare più Lunghissimo Qua Joy E sui tempi di stendere 41.3 Tempi relativamente Alti anche per lui Anche Degri Chupac Giro annullato Rientra i box Vespa sarebbe Stendere a 39.8 Con le super Quindi un signor tempo Però è annullato Probabilmente vediamo Se fare un altro tentativo No alza il piede Mix 18.3 42.2 È in linea per la folle Con le super soft Già alzato il piede Stendere 18.7 Continua Vediamo i settori Con Joy Che ha fatto un attimo Primo e terzo settore Paga un bel po' Da stendere nel Secondo settore Vespa Niente Attenzione Mix Vediamo Mix Ricordiamo che Su super soft 41.7 Buono Rispetto agli altri Per essere con super soft È molto buono Come tempo Come si alzano il piede Sembra continuare Tanto stendere Fermo in pista Ci fa un po' di burnout No Niente Credibile stendere 18.4 per Mix Nel primo settore Squalifica per stendere Ormai i piloti Veramente Non vogliono far squalificare Non capiamo un motivo Abbiamo tre spettatori Che salutiamo Tanto qua mette Il folle Mix E' andato in folle Il pilota Mercedes Vediamo il Secondo settore E' abbastanza Più lento Dei suoi Migliori parziali Del giro precedente Ricordiamo 1.41 355 La pole position Di Joy Stendere Si è squalificato E' stato squalificato Scusate Quindi Il tempo Che aveva fatto Praticamente Li viene tolto E partirà Praticamente In fondo Insieme a CMM Anche entrambi Squalificati Mix Vediamo se Concludere il suo tempo Sembra che Abbia alzato il piede Joy Rientra i box Comunque Commentate Fate dei pronostici Sulla qualifica Che io li leggo E niente Così almeno Attiviamo un po' La chat Tanto Fitandri Si ritira Ragazzi Qua sta succedendo Di tutto Grisho pack E sono usciti tutti Bene ragazzi Mi siamo messi benissimo Ok Dobbiamo rifare la sessione Quindi vabbè Io vi terrò compagnia Speriamo che Qualcuno Venga Se qualcuno vuole venire Di quelli che sono In Quelli che stanno Seguendo la live Mi mandi un messaggio Che vi invito Così almeno Aiutate un po' Nel commento E partecipate anche voi Alla live Io torno al meno principale Scusate ma Devo farlo Ok Quindi ragazzi Questa live Sarà un po' Più lunga Del solito Abbiamo finito Le interviste Stiamo pariti Con la qualifica Ci sono stati Alcuni problemi Adesso chiedo All'host Della sessione Di invitarmi Così possiamo Rientrare E ripartire Subito Allora Vediamo se Qualcuno di voi Ha commentato Tanto io sto Entrando in Sessione Vediamo se c'è Qualcuno che ha Scritto La dove si scrive Evviva Quindi Ottimo dado Sessione ovviamente Da rifare Mi stanno Arrivando lì Inviti Per Rientrare dopo Allora Anche perché Praticamente Era successo Che Eravamo partiti Senza dadoizi Che era stato Squalificato Poi successivamente Sicuramente Gli altri Si sono messi D'accordo Hanno deciso Di riavviare La sessione Proprio perché Molti Erano stati Squalificati O comunque Non avevano potuto Prendere parte Alla sessione Adesso tutti Dovrebbero avere La macchina giusta Infatti È così Direi che si può ripartire Siamo 11 Quindi è giusto Dovrebbero essere Infatti 10 I Pilotti In pista Con io il commento Quindi Giustamente 11 Allora ragazzi Stiamo partendo 10 secondi Alla via Di queste Qualifiche brevi Seconde qualifiche brevi Ma Ci rimettiamo subito Pronti Per seguire Appunto Questo torno Di qualifiche Allora Comunque Prima abbiamo già visto Un po' di valori in campo Abbiamo potuto vedere Che Appunto Soprattutto Le Mercedes Quelle di Bespa E Mix Avevano Un buon Passo qualifica Infatti Avevano Veramente Fatto Dei buonissimi tempi Bespa Ha avuto Il giro annullato Con Gome Supersoft Aveva fatto 1.39 Quindi Era un ottimo tempo Gli altri erano solo 1.41 Poi abbiamo visto Anche un De Grey Che aveva fatto Un buon tempo Però era Con Ultrasoft Anche lui Però Annullato Allora Manca sempre Palonator Che è sempre Il ritardatario Di turno Quindi stiamo Attendendo Per il via Per il via Di queste qualifiche Quindi ragazzi GP di Abu Dhabi Emirati Arabi Uniti Ultimo GP Della stagione Della Super League Allora Andiamo nelle info Per vedere il meteo Abbiamo Meteo asciutto Per la qualifica E meteo asciutto Per la gara Quindi Caldo Perché Ovviamente qua Si gira Si gareggia Con il tramonto Praticamente Con il sole Che scende A lungo andare Della gara Daduizzi Abbandona La sessione Di nuovo E' veramente Un Un'agonia Per il povero Dado Un'agonia Ah sta scendendo In pista Vespa Allora Vespa Tra l'altro E' Cosa Insieme A Stendere De Grifupac Stendere Che ha ripreso In mano La sua Red Bull Stato Sta scendendo In pista Ah no Era CM Manco Scusate Quindi De Grifupac Sta scendendo Ora in pista Infatti CM Manco E' quello qua Con le sue Super Soft Il primo A far segnare Un tempo Sarà Il Pirota Mercedes Vespa Che Riopta Di nuovo Per le Super Soft Poi abbiamo Dadoizzi Con Ultra Soft C'abbiamo Anco Con Super Soft De Grifupac Con Ultra Soft Gioi con Ultra Soft E basta Perché gli altri Sono ancora i box Mi si chiamano Vespa Vediamo 15 minuti e 50 Al termine Di questa Qualifica Si sta per lanciare Vespa Allora Vediamo il primo Settore Vediamo Che per essere Un buon Settore Dovrebbe essere Intorno 17 secondi alti Vediamo Vespa 18 netto E' buono E' buono Anche come Più dure 18 netto Proprio Andiamo a stendere 18 e 6 Abbastanza alto Cm Mancu Sta arrivando Al primo Rilevamento Cronometrico Come Super Soft Per lui Che fa 18 e 9 Proprio 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 Lì 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 Vediamo Invece De Greciupac Avrà Molto Buono Il primo Settore Di già 7 901 Dadovizzi Rientra Un po' Largo De Greciupac Che fatica Un po' Nell'incrociare Nei cambi Di direzione Vediamo Gioi Campione Del mondo Della Superling 18 e 3 Vediamo Subito Con Vespa Secondo Settore 41 Vediamo Settore 42 7 Quindi Un secondo Più lento C'è me manco 42 9 Buono Il tempo Di C'è me manco Considerando La Super soft Per lo meno Considerando Con i parametri Settore 41 Strait De Greciupac Che è leggermente Più veloce Dei tempi Di Vespa Considerando La differenza Di mescola Vediamo Vespa La passano Sul Traguardo Ultima curva Sulla destra 39 8 Vespa Poi il position Gran giro Gran giro Vediamo De Greciupac Mostra le curve Minestra Controllo Di De Greciupac Destra Molto bene Ultima curva Per lui La fronta bene Uh Che controllo Ancora 39 1 Grand Grandissimo Giro De Greciupac Quindi ragazzi Abbiamo potuto assistire A un ottimo giro Con Ultrasoft De Piotta Red Bull Tanto qua Non ho visto Gli altri tempi Sinceramente Allora Andiamo a vedere Ricapitolando Gioia ha fatto 1.41 E 4 Con Ultrasoft Quindi paga 2 secondi e 2 A parità di mescola Da Polman In questo momento Che è De Greciupac E poi abbiamo Cm Manco Che fa 43.8 Un tempo abbastanza alto Con Super Soft Allora ragazzi Comunque 39.1 E' veramente un buon tempo E anche 39.8 Con Super Soft Chissà se Bespa Scenderà di nuovo Con le gomme Più Soffici Cm Manco Il giro annullato Pallone Terescese in pista E anche Mix Entrambi con Super Soft Per quanto riguarda Le strategie E' abbastanza difficile Fare una sosta Su questa pista Quindi Fare Super Soft Soft E' molto complicato E' Un po' dispendioso A livello di Tempo Si guadagna ovviamente Perché si fanno sosti in meno Ma le gomme Veramente faticano tanto E si deve avere una gestione Delle gomme Ottima Per Per una sosta sola Quindi credo che vedremo La maggior parte Tutti su due soste O qualcuno In più su tre soste Tanto abbiamo Mix Che si sta lanciando Vediamo Tanto va Fitandria E' proprio il giro di Per ricognizione Praticamente con Intermedia Degrishupack Che sta rientrando Tello alla pista Molto A cab Tanto l'ag Di Degrishupack Teniamo conto Lui che si sta giocando Il podio Con standard 14 punti Lo separano Dal terzo posto Del Priota Sauber Ecco qua i box Degrishupack Palonator Come super soft Per lui Primo settore Shot 1 Ottimo Primo settore Per Palonator Da circa Un decimo e mezzo Dal tempo Quale si è messo L'hai fatto segnare Da Vespa Va nel lunghissimo Retiro L'ass Di Palonator Per far registrare 342 Quindi il più veloce E' il più veloce Tra tutti quelli Fino alla scese in pista Qua la perde In accelerazione Palonator Ricordiamo Categorie ovviamente Senza aiuti Senza nessun aiuto Vediamo il secondo settore È un 42,7 In linea con i tempi Di stendere Se non sbaglio Mi paga un secondo Infatti Dai migliori Ed è In linea con i tempi Di gioi Più o meno Quindi sul 41 Ecco qua Tocca il muro E alza il piede Senza è sempre uscito ora Vediamo Sì è uscito ora Ma no Fa 18,7 Però taglia Quindi Dofitaner è veramente Sta girando Quelle intermedie Proprio tranquillissimo Palonator Cm Manku Mix Vediamo Mix No Molto lento Mix Alza il piede Vespa è sceso con le ultra soft Attenzione a Vespa Lo seguiremo tra poco Perché lui veramente È In questa Qual position Comunque Joy Sta uscendo con le super soft Forse ha fatto un giro lento Per poterlo successivamente Migliorare Chissà Vedremo tra poco Allora Palonator Fa 18,3 nel primo settore Quindi Non si è migliorato rispetto al suo best Ma prima Aveva toccato il muro Quindi Non aveva concluso il suo giro Stendere Tanto tempi molto alti Dove si scende in pista Andre con le intermedie Grascio Pach Cosa in pista pure lui Vespa Mix alto Di per andare su palonator Eccolo qua Alza il piede nuovamente Il pilota Ass Andiamo Immediatamente a seguire Vespa Subito sul pilota Mercedes A 8 minuti e 30 Dal termine Delle qualifiche Si lancia subito Il pilota Mercedes Per affrontare la prima curva Prima curva sulla sinistra A 90 gradi Affrontata bene Buona l'accelerazione di Vespa Che ha fatto per il cordo all'esterno Si lancia verso il cordo all'interno Curva a destra Molto buono Molto buono Vespa G7-916 E sui tempi di De Grey Cipac La differenza ovviamente Si fa Nel secondo E nel terzo settore In quanto il primo settore Un settore Abbastanza Corto Vediamo subito Il RS Giava la riuscita di punta Che ha registrato Ricordiamo i 340 Per meno di palonator Vediamo Vespa Più veloce 343 Molto scarico Vespa Buonissimo L'impostazione di queste Di questo sito Sinistra a destra La chicane Per quest'altro rettilineo E' ottimo Il secondo settore 41.2 Signori che tempo Che sta facendo Il Toyota Mercedes Buonissimo qua Vediamo se si avvicinerà Alla pole Della Junior League Di questo lunedì Uno 18.6 Sarebbe veramente Un grandissimo giro In quanto Questi ragazzi Girano senza aiuti Andiamo Guarda a destra Guarda destra Mette la quinta Molto bene Molto bene Veramente un buon giro Uno 38.8 Gran giro Veramente un bellissimo giro di Vespa Dato un piacere seguirlo on board Si perde la pole Vediamo se è la grigio pack 17.8 41.6 Un ottimo primo settore Però perde 4 decimini al secondo Vespa La differenza l'ha fatta là Soprattutto un'impostazione Da sinistra a destra E anche Per quanto riguarda Le accelerazioni Vediamo Se the great Chulag Sopranamiato così Dalla maggior parte Degli utenti 1.39 Gran T3 Ma non basta Non basta Però veramente I due molto vicini E si preannuncia Già una lotta Molto accesa Per la prima e seconda posizione L'altra che si era già vista Nel GP Di Messico Con i due separati Praticamente Da pochissimi lesimi Alla fine E' veramente Una differenza abissale Con gli altri Questo dimostra Del continuo allenamento Di questi due piloti In confronto Agli altri che Magari si sono allenati Però Non riescono A troversi bene Con questa pista O Non lo so Insomma Comunque è veramente Una differenza Molto molto grande Da dove si Passeggia Ricordiamo che Comunque lui è Un vantaggio Abbastanza importante Nei confronti Di stender Circa una ventina Di punti Quindi A seconda posizione In generale Dovrebbe averla Abbastanza stretta In questo momento E il shoe pack Sta rientrando in box Vediamo se c'è qualcuno Non mi sembra Mix è sceso con le Con le ultra Si sta andando E sta rientrando Vediamo se qualcuno Si è migliorato Si Joy si è migliorato Con le super soft Ha fatto 1.47 Non male Non male Per Joy In questo tempo Però Comunque è terzo E paga 1.9 Ok La differenza di mescola Però è veramente Un livello importante Con i primi due Dai il shoe pack Sta rientrando Joy il primo Settore altissimo Ci mi è manco Il rientrato Ci mi è manco Quinto 1.41.8 Buono 3 secondi Dai i primi Comunque Al momento Terza fila Per lui Il shoe pack Rientra Forse c'è solo Mix da seguire Buona L'impostazione Di curva 1 Buona anche L'accelerazione Vediamo qua Buono Il livello di traiettoria È molto buono È affrontato bene Vediamo se è efficace Buonissima 18.0 Attenzione a Mix È già quarto Dovrebbe essere La terza posizione Vediamo se ci smentirà Addirittura Per poter Attaccare la prima fila Dovrà fare veramente Un miracolo Nel secondo e terzo settore In quanto De Grisciopac e Bespa Sono fortissimi Esattivamente Bespa nel secondo settore E De Grisciopac nel terzo Avanti veramente Molto molto Forte I due piloti Attenzione a Mix Sta per andare a Concludere il secondo settore Del suo giro veloce Un 42.1 Paga Quasi un secondo Dal compagno di squadra Che ha fatto 41.2 Però si potrebbe Tranquilamente mettere In terza posizione Al momento Circa un decimo e mezzo Nel primo settore Circa nove decimi Nel secondo Quindi è circa Un secondo e uno Dal compagno Potrebbe essere Un 40 Per Mix Vediamo il terzo settore Ha fatto tutto Discretamente bene Curva a destra Mette la terza qua Vediamo Un mix 45 Quarto Perché Palonator Che non abbiamo visto Ha fatto 1.39.8 Quindi buon giro Da parte di Palonator Eccolo qua Purtroppo non inquadrato Però si mette terzo Quindi Buon buon giro Da parte sua Un altro mix 18.4 Rallentando E giù sta uscendo Quindi ultimissimi Minuti Minuti finali Di questa Qualifica L'ultima qualifica Per la Super League Stendere Che ha fatto un tempo Abbastanza alto Con le Ultra Quindi abbastanza Migliorabile Vediamo Vediamo Dadovizzi Dadovizzi Si sta lanciando Sono 8 piloti in pista Curva a sinistra Di Dadovizzi Affrontata bene Molto bene Qua in percorrenza Il pilota Sauber E' la settima 7.799 Che settore ha fatto Dadovizzi Mamma mia Dadovizzi Signori Attenzione Attenzione Pirata Sauber Prima sembrava Passeggiare Adesso ha detto Manca un minuto Io spingo Vado forte Voglio prendermi la pole Vediamo Vediamo Dadovizzi Ora se c'è qualcun altro Non sembra Non sembra Ci possiamo concentrare Assolutamente Sul pilota Sauber Che va l'u Non ci credo Abbiamo perso Un attimo Il L'inquadratura Dadovizzi Va a lungo E purtroppo Non avrà tempo Per migliorarsi Ulteriormente Un bel spa Continua Forse non si sente sicuro Dalla sua pole Vediamo Vediamo Vedete che c'è un pack Dietro Incredibile E questo è un cielo Tutto da seguire Tra questi due Vediamo il pulsatore Di bespa 7 e 7 17 e 7 Dice che ci va Che incredibile E forse Disfrutta anche la scia Attenzione Qua sembra che La trazione di bespa Si è stata Leggermente superiore Una di pilota Sarà è buio Andiamo A riprendere un pizzico Di scia In effetti Qua Finirete Trettilinio Buono Attenzione 41 e 2 E 41 e 3 Degrenciupack E' messo meglio In questo momento Ce l'ha in tasca Degrenciupack Ce l'ha in tasca Andiamo ad inquadrarlo Andiamo ad inquadrarlo Stendere intanto C'è manca Forse è disturbata Leggermente Degrenciupack Attenzione a bespa Attenzione a bespa Vediamo Il tempo Ed è pole position Per bespa Non ce la fa Degrenciupack Vediamo Il tempo finale 1.38 e 6 Incredibile Incredibile Degrenciupack Fa 38 e 8 Pole position Per il pilota Mercedes Andiamo Joy Più che Si sta migliorando Ha fatto 18 e 0 Il primo settore 42 e 0 Il secondo settore Lui si sta migliorando 45 per mix 47 per lui Si può andare a prendere La seconda fila Attenzione Buona la trazione Ed è quarto Ed è quarto Joy 38 e 6 Per bespa Reddotte 8 39 e 8 43 e 45 41 e 8 41 e 9 Per stendere Quindi bespa Degrenciupack Pallonator Joy Mix C'è mi manco Stendere Da 12 Bonura E Fitandre Non riusciamo Rientreremo tra poco Per vedere la partenza Comunque ragazzi Adesso io faccio un po' di pronostici Secondo me Sarà veramente una bella lotta davanti Perché Diciamo che Degrenciupack e bespa Hanno un ottimo ritmo Bisogna fare molta attenzione Perché Degrenciupack Si sta giocando la terza posizione Ancora con stendere Quindi attenzione Se dovesse vincere Stendere Se la vedrebbe un po' brutta Per il mantenimento Del podio finale E Non lo so Sarà comunque Una gara da seguire Tra poco Comunque Ragazzi Noi rientreremo In sessione Appena i nostri piloti ci avviseranno Che sono nel warm up In modo da non avere la nostra macchina in partenza E quindi creare magari qualche disturbo Al via Del gran premio Anche per vedere meglio Diciamo Lo scatto Ok Mi dicono che si può rientrare Quindi siamo assolutamente pronti Allora Adesso Entro subito Ok Possiamo assistere Allora Ci sono due spettatori Un commento Commentate I due spettatori Che ci stanno seguendo I I tre Diciamo Si Coloro che arriveranno a polio Secondo voi Siamo nel warm up Con Vedo Aspettate Per se c'è me manco Ho visto Si C'è me manco Davanti a Bespa Quindi se la prende comoda Vediamo se c'è qualcuno Che ha avuto contatti Nel warm up Al via Sembrano tutti Si Stanno tutti partecipando Al warm up Quindi Correttezza Estrema Da parte di piloti Che scaldano le gomme E sono pronti per il via Del GP Di Abu Dhabi Ultimo GP Della stagione Della Super League Forum Ita Racers E' quasi tutto pronto Ragazzi Le macchine Si stanno Schierando Ultima curva Per Il leader Della qualifica Bespa In realtà C'era Joy Fermo Però Non ce ne siamo Accorti Andiamo in televisiva Ah no Ok La mix Si può seguire La partenza Vediamo Dalla visuale Magari Le great two pack Poi magari Vediamo se Gireranno l'inquadratura Finiscono per Schierarsi Bonura Se non sbaglio Da doizzi Ci siamo Ci siamo Ci siamo Siamo pronti Filippo è massa Allora Eccoci qua 4 5 semafori E via E' partito il GPT Abu Dhabi Tanto fumo Tanto fumo In partenza Con the great two pack Che pattina molto Bespa parte bene Pallonator all'esterno The great two pack Tira la stagata Sta all'interno Con pallonator Che rischio Pallonator deve allargare Deve rientrare in pista Perde leggermente La macchina è contato dietro C'è me manco a muro Mamma mia Mamma mia E pallonator è fermo E mix Si è toccato probabilmente Con C'è me manco Impazzito Che è rientrato Con Bespa davanti Da great two pack Facciamo un ordine veloce Della classifica Un ricapitolo veloce Con Bespa davanti A the great two pack Poi abbiamo Joy Terzo Davanti a Andre 26 Abbiamo Datoizzi Quinto è partito All'ottava posizione Addirittura le gomme soft Quindi cercherebbe da lungare Tantissimo lo stint Datoizzi Che è già in scia Fitandre Vediamo Vediamolo Si porta all'esterno Il pilot della Sauber Niente Fitandre Tira la staccatona Poi abbiamo Bonura Standre C'è me manco Con C'è me manco Che è proprio la staccata Disperata C'è me manco Senza Un flap Allora abbiamo visto Un po' il condotto in partenza In teoria Praticamente Il pallonetto è finito Largo È rientrato in pista Ha perso leggermente Grip Praticamente ha dato Una leggera sportellata C'è me manco Che è praticamente Finito A muro E poi Niente Si è È iniziata Una Carambola Pazza Con il volto Mix Lo stesso C'è me manco Se non sbaglio Stendere Comunque Salute I nostri Quattro spettatori Attuali Allora Abbiamo Bespa In prima posizione Davanti a The Green Che accusa Già un ritardo Di quasi Nove decimi Bespa Va già a valere Il suo passo Poi abbiamo Joe in terza posizione Già Campione del mondo Ricordiamolo Andre 26 Intanto Bespa 1.45 4 al primo giro Ovviamente con Partenza da fermo Andre 26 Che paga 5 secondi E 3 Ed è quarto Dadoizzi in scia Dadoizzi con Legome Soft Ricordiamo Che non ha Fatto praticamente Nessun giro in qualifica Vediamo la macchina Di Filippo E massa ferma In pista Non è la nostra Fatto da Dadoizzi Vicinissimo Ad Andre Però praticamente È l'unica lotta Vediamo se dietro C'è qualcosa Mi pare che Ci manco Dovrebbe essere Rientrato in box E infatti Ha montato le gomme Soft e ha Sottituito probabilmente Lala Poi Standre Idem Quindi anche Standre È stato coinvolto Nel contatto E Mix anche Quindi Avevo intuito Giustamente Che Dalla Praticamente Dalle errori Di Palonator Sono stato coinvolti Mix Lo stesso Standre E C'è me manco Tanto qua Mix Con come Fred Che rischia di perderla Ma allora Vespa 1.6 Quindi ha più ritmo Rispetto a Degrichupack Attenzione Da In Tandre È Dado In lotto Sempre Vediamo dalla televisiva Eh sì Eh sì 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 Sono in lotta Giro 2 di 28 Che era veramente Molto lunga Considerando che la pista È abbastanza Dura da affrontare Anche perché è molto tecnica Ci sono dei settori Abbastanza Ibridi Allora Vediamo Taduizzi Intanto Vespa 1.43 0.52 Giro veloce Della gara Taduizzi Veramente Sembra averne di più Considerando anche Lo svantaggio di mescola Ma Vittandre Sembra veramente Un tappo Un tappo incredibile Intanto è entrato Yamotti Che provvederò Ad invitare nel party Così ci farà La compagnia Allora Quindi prima posizione Per Vespa Continua veramente Ad imporre un ritmo Incredibile Quanto è entrato Yamotti Yamotti Puoi magari mettere Il consentito Cioè Magari alzati Anche come del microfono Ho messo Ho messo Lo senti bene? Sì sì Comunque sono al giro 3 Giro 3 di 28 Sì sì Avevo messo la live Perciò Allora Ci vuoi pagare 5.6 Già da Vespa Dopo 3 giri Tanto Dado Dado Incredibile Dado Praticamente bloccato Dietro Andre dal primo giro E ha paura Praticamente Di passarlo Eh Bella lotta Magari se Diamo Ci puoi dire La penalità Qualcosa Dei piloti Anche gli avvisi Queste cose 3 secondi 3 secondi E qua Dado Dado Gomi è molto usurate Ma Adesso deve Portare le soft Molto a lungo Magari fa soft E poi mette le super Arriva fino in fondo Best by box Best by box Quindi forse ha paura Dell'undercut Del pilota Della red bull E ho visto anche Meccanici ferrari Quindi anche Joey box Però Best Ammette le super Quindi sembra che i pilot Abbiano un'usura Molto elevata E Joey Invece Mette le soft Allora Vediamo adesso The great shoe pack Dove esce Ho visto anche Probabilmente Andre E pallonetto Are i box Probabilmente È davanti Sono là Sto uscendo Ora Vespa Ma è davanti Di poco Che rischio Che rischio Con Vespa A fianco La McLaren E De great shoe pack Si butta Poi sportellata E passa De great shoe pack Incredibile Bonura Praticamente L'ha fatto Dalleato Perché Ha staccato Prestissimo Però adesso Secondo me Vespa Ci riprova Andiamo subito Dalla visuale Televisiva Attenzione Vespa Vespa All'interno E attenzione Passa che Bonura Si toccano Incredibile Ancora Con il DRS Vespa Cosa? Nessuno Nessuno Ha dannizzato Niente Si ma Attenzione Perché Mamma mia De great shoe pack Cosa fa E si tocca Vespa E qua Qua ha roto Qualcosa Qua ha roto Qualcosa Vespa Secondo me Ce l'ha la rotta È entrato Attenzione Con questo risultato Con the great shoe pack Che praticamente Dovrebbe essere Al momento Già primo Sarebbe Terzo in classifica Generale E quindi Stendere Si verrebbe Beffato La pirata Red Bull E finirebbe fuori Dal podio Alla fine Appunto Del campionato Dopo che È stato Fino a Tre quarti Di campionato A lottare Per il titolo Proprio Stendere Si è spento Tutto in una volta Ovviamente Oggi molto sfortunato Il pirata Dalla cyber E continua A rimanere Dietro Cmanku E mix Ultimo Cmanku Eh Dadoizzi Attenzione Dadoizzi Ti ha dato Tantissimo Vediamo Controlla Dadoizzi Sì Qua L'ha viso L'ha preso Di sicuro Sì Sì Ha preso E Schepack Il secondo E Bonura Continua a tenere Dietro Bespa Ed è arrivato Joy Bonura Che rischio Attenzione A Joy Joy li potrebbe Beffare Entrambi Ed è Da gomme Soft Il pirata Dalla Ferrari Attenzione Adesso Bespa Andiamo Su Bespa Sì Sì Stanno Entrando Persona A caso E abbandonano A casissimo Comunque Bespa Adesso Secondo me Che ha passato Bonura Sarà arrabbiatissimo Con Bonura Potrà andare A prendere De Grishupack Subito Anche perché Lui ha Gomme Super Soft Destinante quindi Un degrado Maggiore Rispetto alle soft De Grishupack Comunque No visivamente Non si vede Non si vede Nuno Eh però Secondo me Qualche danno Ce l'ha Perché prima Ha proprio dato Una sportellata Bonura Incredibile Infatti Adesso Sta alzando Un po' Il piede Qualche problemino Ce l'ha Comunque Dadoizzi Partito Ottavo Dal primo giro Con queste gomme Ed è primo E attenzione Perché potrebbe Fare una sosta Attenzione A Dado Eh ma Sta perdendo Abbastanza Si sta perdendo Però c'ha Oltre 10 secondi Di vantaggio E se riesce Magari a Potrebbe fare Un Super soft E poi magari Una ultra Alla fine Probabile Oppure magari Mette super Direttamente dopo Perché tu Non hai potuto Seguire la qualifica Però lui stava Facendo un buonissimo Tempo Però è arrivato Lungo E quindi Mancava poco E non ha potuto Migliorare Vespa è arrivato Su da Grecia Pack E Gioia Ha passato Bonura Gioia Attenzione L'ho visto Leggermente Laggare Non so se confermi Ma adesso Sembra subito Stabilizzato Manco Ottavo Mix Nono Stendere Decimo Si è rifermato I box Stendere Disastro Stendere E Vespa 42 3 Secondo me C'è stato Qualche Con Lato Con Cm Manco Perché Inspiegabile E Vespa Ha passato De Grish Pack Vespa Così Non è stato Non è stato Così a caso Povero Povero Pilota Red Bull Veramente Povero Povero Allora Vediamo Joy Comunque Comunque Così sarebbe Ancora Davanti A Stendere Perché Così facendo Sarebbero a pari punti Perché lui è terzo Ovviamente manca quella da dovizi a fermarsi in box Però Se stai in modalità fantasma Per molto Poi Finisce per perdere Basta Da Tre secondi Sì Problemi Problemi alla connessione È rientrato adesso Però Joy forse è già arrivata Attenzione a Joy No No è lontano Sì Ha tempo Ha tempo per riprendere la macchina No Anche 5 secondi È ancora fantasma Ok L'ha ripresa L'ha ripresa? Sì Buon per lui Vediamo quanto è adesso 13 e Ah no Deve passare Per un trago 17 e 9 17 4 secondi La Doizzi ringrazia La Doizzi ringrazia Merda Bespa 10 e 4 Bespa comunque non riesce a guadagnare Incredibile Strano Joy 19 e 0 Quindi Joy paga Più o meno un secondino Due secondi forse Da Da Grisio Perché non di più Buonura 24 e 1 Pallonator 26 e 6 Pallonator Sta iniziando un lento Ma continuo il recupero Dopo l'incidente alla partenza Dove però Praticamente ha penalizzato La gara Ovviamente involontariamente Però ha penalizzato La gara di Di altre Tre persone Si trovano Praticamente Ottave non e decima Sono Mix Che ha praticamente Già un minuto di ritardo C'è me manco Che è un minuto e otto E si è fermati i box Infatti ha messo le super E Stendereli Praticamente li si è già rifatto sotto Quindi lo tace Mi manca un stendere Per le ultime due posizioni Seguiamoli Stendere che ha già Gli RS Bonura fuori Attenzione All'exe E all'exe car E all'exe Attenzione Non sembra il momento Non abbiamo visto il ritiro Bonura era Era quinto Era davanti a Palonator Palonator rischia Di tamponare La vettura di massa Attenzione 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 Niente Safety Non vuole uscire C'è troppo caldo Negli Emirati Per Scomodarsi Comunque Mix Un'ora E C'è sì Un'ora Che cazzo Un'ora Un minuto e due Dal primo Ci me mancano Ancora i box Forse vuole battere Qualche record Incredibile Continua a montare Super soft E stendere ottavo Vabbè che adesso L'ultimo Praticamente arriverà Nono Perché Bonura è fuori Così stendere Attenzione Vediamo ad adorizio Vediamo ad adorizio Dov'è finita Dadoizzi E' sempre primo 11 giri Andiamo a vedere Il passo Di Dadoizzi Che gira E' ha solo un avviso Poi abbiamo Bespa Che però E' sul 43 basso Quindi Recupera un secondo Al giro E adesso Si trova A 8 secondi e mezzo Nel caso Dadoizzi Dovesse fare Una sosta in meno Al momento Si troverebbe davanti Ah no C'è meno A Q Aveva Perfetto Comunque De Greciu Pack È 17,6 Quindi non ha guadagnato Niente Su un Dadoizzi Con gondusate Gioia addirittura Sta perdendo Quindi sembra Che il passo Di Dadoizzi Sia Sia ottimo Quindi adesso L'ota tra lui E Bespa Dadoizzi Dadoizzi Tanto per gli appassionati di calcio Segniamo che la partita Atalanta-Juventus è finita 2-2 Incredibile Con rette al minuto 89 Di Remo Freuler E quindi pareggia i gol di Daniel Al minuto 83 Della Juve si blocca E l'Atalanta continua a stupire Incredibile Sette e nove Stendere fuori Stendere fuori? Si No non è Come? Non abbiamo visto niente Vediamo se dalla macchina di CEM Manco si vedrà qualcosa No è già bandiera verde Incredibile Incredibile Lo invitiamo al party? Si Però ha abbandonato la sessione Magari tu adesso continua a fare un po' di telecronica Anche se adesso non ti sentirei perché sono in modalità Ah inviterò tu Inviterò tu Eh privato Allora Stendere Ha staccato Ha staccato E The Great Chupac E The Great Chupac Ringrazia Incredibile The Great Chupac Sta per arrivare Terzo in campionato Grazie ad una disconnessione di Stendere Che veramente In quest'ultima parte del campionato A cosa della connessione Ha perso tantissimi punti Non c'è disconnesso Ha rotto Eh si vabbè Ha rotto E poi si E' uscito Comunque Ultimamente Per colpa del Della Haga Anche aveva messo Molti punti Adesso ho disfortunato nel contatto E poi Si è schiantato malamente Andiamo da Dovizzi Dovizzi continua Tredicesimo giro su 28 Una gara che al momento E' un po' monotona Ci sono poche battaglie Abbastanza Di stacchi Tra un pilota e l'altro C'è un momento di staglio Si Metà gara Però proprio Veramente Ogni pilota è distaccato dall'altro Di un 5-6 secondi Ci sono veramente poche lotte Andiamo a seguire il leader Del gran premio Da Dovizzi Andiamo se puoi Aggiornarci Sulle penalità Magari Del 82 T-box Attenzione Vediamo che Come monterà Probabilmente monta le O le Forse le ultra Per fare ultra ultra Vediamo Vedo super E sono super Quindi probabilmente farà super E poi ultra soft Per arrivare Fino alla fine Attenzione ad Adoizzi Comunque Allora i primi 4 Sono senza penalità Ok Poi Fallonator A 12 secondi Da Dovizzi sta uscendo adesso Ed esce davanti a Joy Con gomma nuova Da Dovizzi Da Dovizzi A 11 secondi E 4 da Vespa E a circa 3 secondi Da Degri Cipac Con gomma nuova Lo dovrebbe andare a prendere In pochissimo tempo Attenzione ad Adoizzi Poi andare a niente Mixer Comunque Vecchiamo Ma con 9 secondi E un break E poi Abre Sempre E' buona E' buona E' buona Comunque Vespa Ehm Ha fatto Moltissime vittorie Praticamente Anche il Cimemanco E' vabbè Incredibile Adesso stavo guardando la classifica Con Mix Safety Car Virtual Vediamo se qualcuno ne approfitterà Per fermarsi di box Sembra che Vespa Ne approfitta Vediamo Box Box per Vespa Mette le soft Pino in fondo Però secondo me Andrà molto piano Poi Vediamo Degri Cipac Box anche per Degri Cipac E qui già dove si perde tanto Ma è andato perde E' andato appena Al rettilineo Allora Non ho visto le gomme di Vespa Vespa ha montato le soft E invece Degri Cipac Super soft Sì Con Dato che è passato Però su Degri Cipac Ed è passato anche su Vespa Ed è primo Per poco come primo E' stato fortunato Tanto stendere si unisce a noi Ciao 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 ste Cosa è successo Per il tuo ritiro Non l'avevi inquadrato Stava andando Molto male la gara Sì abbiamo visto Pensavo che fosse Eh Fosse più dignitoso Finirla contro il muro Che continuare altri 15 giri Così Eh Guarda Ero veramente sconsolato Per il fatto che Andavo pianissimo Continuavo a fare errori E ogni errore facevo Mi incazzavo sempre di più E Allora Niente Ma Sei stato coinvolto Condato al via Con Palo Nator E gli altri Vero? Ecco Esatto E purtroppo al via Si è successo un casino Sì 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 L'abbiamo visto Palo Nator ha sbandato E ha coinvolto un po' tutti Ovviamente In volontariamente Però Tanto attenzione Perché Degri Cipac Sta passando gioi Adesso poi prima L'ho spento Quindi non c'ho neanche io Nel video Non l'ho salvato Ma eh Purti si è anche toccato Con CmM anche per caso Eh Sì Non so se è stato un lag In quel momento lì Però l'ho tamponato Perché Aveva frenato prestissimo Forse un lag Non lo so Ok Comunque sei consapevole Che adesso Cioè Si è abbastanza a rischio Per il terzo posto In generale Eh Eh sì Questo lo so Finire la gara Ti sarebbe comunque Valso un ottavo posto Cioè Erano comunque 2-4 punti Eh lo so però Mi sarebbe comunque Deggiuto fare una bella gara Cioè lì Mi stavo annoiando Ok Invece per la qualifica Eri comunque Nel gruppo Eh Anche in qualifica Purtroppo tagliavo Quindi non riuscivo A fare Mettere il giro buono A segno E questo è perché Perché è abbastanza difficile Cioè È abbastanza ibrida Come pista Quindi è difficile Trovare Un giro buono Sì 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 Lo so Sì Potete dire anche Che comunque De Grisciupac Se trovavo un po' di più Comunque De Grisciupac E Bespa Hanno fatto Hanno fatto un po' di tempo E poi c'è Dado Che ha avuto problemi Per il giro Eh ho visto Comunque Bespa È vicino a Dadovizi Però a me lo segna Due secondi e sette Quindi ho qualcuno di due Partito dopo Non lo so Forse è Dado Perché è crashato in qualifica Quindi lo segna Un po' sballato Forse In realtà è partito Partito dopo Dado Però lo segna Che è partito Allo stesso tempo degli altri Quindi Bespa Dovrebbe guadagnare Un bel po' Oltre a passarlo Ma come stanno messi A soste? Eh c'è stata La virtual safety car Dopo che si è schianato Cm Mancu E quindi Si sono fermati un po' tutti Bespa E De Grisciupac Dado si era fermato prima Eh adesso Dado è primo Però si dovrà rifermare Eh sto guardando la live Ah ok Dado Quindi deve ancora fermarsi Sì Ha appena fatto il giro Più veloce 1.41.6 Quindi sta andando Veramente veloce Poi De Grisciupac È terzo Sarà sta prendendo Diciamo con calma Anche perché Joey È quarto È tipo 15 secondi Da lui Sì Dado sta spingendo Però c'è da dire Che Bespa arriverà Fino in fondo Mentre Dado no Ma monta le ultra Alla fine Dado Li recupererà Tipo due secondi Al giro Se non anche di più Giro di testate È diventato Vespa 2S Ma poi si è ritirato Anche CM manco dopo Sì Poco dopo di tempo Tipo due o tre giri fa Sì non si è capito Sicuramente Avrà sbattuto pure lui Oh si gira da Grisciupac E finisce quasi a muro Errore in accelerazione Per il pilota Red Bull E Joey non è ancora arrivato È incredibile Joey indietrissimo Sì è difficile Sta pista In accelerazione Insieme al pacchetto C'è anche come Spork La riperde quasi di nuovo Con le gomme supporte Ok Lì si dovrebbero essere pulite 15 secondi ha perso Mamma mia Uh ancora Difficoltà Joey è a 5 secondi Joey praticamente Si è fermato Due giri dopo la virtual Quindi errore Praticamente Di valutazione Si poteva fermare Due giri prima E sarebbe nettamente Davanti a Grisciupac Ma adesso neanche Cioè credo che sia Abbastanza difficile Vediamo a che giro Si è fermato Joey Giro 15 si è fermato Quindi è proprio al limite Ragazzi io vi lascio Vado Va bene Ciao Sam Finisco di seguirla Su Youtube Ok ok Ciao buonanotte Dai ciao Ciao buonanotte Ciao ciao Allora Secondo te La due giri quando si ferma Riesce ad arrivare davanti A Vespa Si ce la può fare Però Non si vuole mai fare Prima di fermarsi Sicuramente davanti a Grisciupac C'è? Si si Penso che è abbastanza sicuro 4.3 Eh Difficile E poi Cioè visivamente Sembrano tipo 2 secondi 2 secondi e mezzo No no Ora È abbastanza lontano Si ma secondo me Perché Dado Essendo crashato in qualifica Partito dopo Rispetto agli altri E quindi appare più vicino A Vespa Però in realtà Quattro secondi e tre E poi li conta a fine gara Quindi Eh comunque Secondo me Per riuscire a passarlo Dopo che si ferma Dove che immaginare Intorno ai minuti Di un secondo Se no La vero difficile Si 4.0 Comunque Adesso Continua a guadagnare Nel secondo settore Poi negli altri due Perde Dado su super soft Secondo me si fermerà Verso il 20 23 Forse Si 23 E mettere su Le ultra Per arrivare fino Alla fine Sauber Campione costruttori Andiamo adesso In ritardo Nell'ultimo settore 4.0 Nel secondo Vediamo Nell'ultimo settore 4.2 Guadagna poco La grecia pack È stabile Sui 26 secondi Invece E Joey Invece Perde 32 2 Poi abbiamo Andrea A 1 minuto E 3 Mai su Minuto E 4 Mix 1.21 E poi Palonator Doppiato Che va In box E mette Le super Per arrivare Fino in fondo E cambia anche L'ala Tra l'altro Quindi Concluderanno La gara In set Ricordiamo Ritirati Bonura Ceme Mancu E Standre E capitolo Della penalità Si Sì 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 Dadoizzi 3 secondi Verso 3 secondi Dadoizzi 3 Aia 3 secondi Di grecia 4 3 secondi E 2 avvisi Joey Pitangre Un avviso Preso Adesso Joey Quanto ha? Joey 3 secondi E 2 avvisi Quindi Quella è dei grisciupack Anche dei grisciupack C'ha 3 secondi Eh No È Difficile Per la polizia Eh sì Vai box Vai box È un po' presto Per montare le ultra Forse Montate le super Sì Montate le super Non si fida Secondo me Poteva montare le ultra Allungava 2-3 giri E poi Ne avrebbe avuto Nettamente di più Pallonator Anche Incredibile Gara d'eliminazione Questa Anche secondo me Cioè Probabilmente lui È Ancora virtual Cioè Probabilmente Lui Anche Pallonator Ha detto Basta C'era Tipo A due minuti e mezzo Ha detto Mi ritiro C'è chi me lo fa fare Di fine alla gara Comunque Da Doizzi È stato sfortunato Adesso Si ferma in pista Due volte Sfortunato Prima perché La virtual è uscita Quando gli altri Si dovevano fermare Adesso è uscita Dopo che lui Si è fermato Incredibile Non è destino Eh già Vuol dire che Vespa Dovrà vincere Questa gara Che è la sua Quinta Vittoria In nove gare Mi pare Che ha fatto Anzi Otto gare Questa è l'ottava gara Che fa E sarebbe la quinta Vittoria In otto gare Quanta roba Eh già Ah no Ha perso quattro secondi L'ho detto Sì ma perché Si è anche fermato in pista Non vorrei che abbia preso Qualche drive through Vediamo Drive through Incredibile No Non ci credo Incredibile Incredibile Appeso drive through Aiaiai Dado Si è rovinata La gara La sfortuna Di Di virtual Vari E poi Proprio Pure in drive through Si ci mettono Male male Peccato Anche perché Adesso è a 15 secondi a tre Cioè ce la poteva fare Magari Poteva guadagnare tanto Su Vespa Anche perché Vespa C'ha le soft Adesso sarà il gioco Con Degre Chupac Andre un minuto e 12 E mix 1.36 Quasi doppietto Dal compagno di squadra 14.7 Eh si Sta volando Dodo Palonetto Ora abbandona E rimasero in 6 Gara finale Gara finale Abbastanza Cosa E' purtroppo Un po' Noiosa Oggi Poche battaglie A parte Il via Però il via Ha un po' Deciso Un po' Tutta la gara Perché Ci sono stati Molti contatti Molte persone Molte persone Molte persone Sono finiti Indietro Si è un po' Già delineata Dal primo giro Come gara Che vede Vespa Nel suo dominatore Che sta per iniziare Il ventitelesimo giro Sei gira La conclusione La due t-box Vabbè Drive-thru Vediamo Dove Rientrerà Sta passando Joy È in linea Con Joy Sto uscendo Adesso Dovrebbe essere Davanti Però Joy Curva a sinistra Si è davanti È davanti Dado Adesso Dovrà Spingere tantissimo E sperare Di andare a prendere De Grinchupac Ha perso 13 secondi Con il drive-thru De Grinchupac Dista 6 secondi Non è impossibile Anche perché Dado Ah no Entrambi 3 secondi Ma poi De Grinchupac Si è fermato Anche Nella prima Virtual Allora le gomme Quasi finite Chissà se Magari Rientra adesso De Grinchupac Dado Ha fatto Lo stesso Secondo settore Di Bespa Vediamo Bespa Ha fatto Nel secondo settore 43043 Dado 43042 Incredibile Bespa Inizia il giro 24 De Grinchupac Box Monta le ultra soft Per gli ultimi 5 giri Joy passa E Joy passa E attenzione A questa lotta Attenzione A questa lotta Così facendo De Grinchupac Sarebbe di nuovo Fuori dal terzo posto Nella classifica Generale Dovrà andarsi A prendere in pista Joy In quanto entrambi Hanno 3 secondi Controlla se Gio non ha preso 3 secondi Si Probabilmente Non sarebbe arrivato Fino alla fine Ma Si Posso Sì Joy Sì 9 secondi Eh vabbè E David Chupac 6 Eh Insomma Però ormai Ce l'ha in pugno Ce l'ha in pugno Questo terzo posto Sia per questa gara Sia Che per la generale Deve solo avvicinarsi Go Bespa Praticamente Che ha dominato Questa gara Ha 30 secondi Di vantaggio Quasi su Datoizzi E tutto sommato Nonostante Drive-thru E sfighe varie Per le virtual Si stanno a prendere Un secondo posto Per confermare La sua seconda posizione In classifica generale Abbiamo Joy A 34,7 Con De Grinchupac A 43 Di stacchi un po' sballati Considerando che De Grinchupac Praticamente Gli è dietro Allora Da Doizzi 1,41,4 Ci sei? Sì sì Ok Ciao Ascolpando Il Dato Continua a guadagnare Su Bespa Però 25 secondi E Grinchupac L'ha già preso Andiamo Andiamo Sì che l'ha preso E lo può passare Geni in crocio Con la trazione delle ultra Lo passa così Non ci danno neanche Un po' di spettacolo In qualche staccata Niente Troppo facile Troppo Troppo facile Con Joy Che tutto sommato Continua A prendere Punti su punti E probabilmente Adesso Vado a controllare Ma dovrebbe aver superato Quota 300 Con questa gara E no 299 Così LOL Per un punto Non arriva a 300 Con Andre Quinto A 1 minuto 10 dal leader Mix Sesto A 1.28 Bespa Ha iniziato Il suo terzo Il suo terzo Il suo terzo Ultimo giro Primo settore Per lui Gara In solitaria Lado 23 23-9 Greciopak 37-1 Ormai Le posizioni Sono abbastanza cristallizzate È difficile Che Greciopak Vada a prendere Dado Molto lontano Sì è lontano Vediamo quanto gira La Greciopak 41-8 A 6 secondi Invece Dado Ne ha 3 Bespa Un avviso Joy 3 6 9 Andre Un avviso Mix Due avvisi E poi ci sono Palone di Torci Devevano anche Stendere i bonus Ritirati Greciopak Mamma mia Che controllo Che ha fatto Andiamo su Bespa Sta iniziando Il penultimo giro Il pilota Della Mercedes Il pilota da tuizzi 21 e 5 ero sta girando molto più forte però quel drive-thru le ha condizionato credo la gara si ha perso molto sono quei 20 secondi 20 no ma anche perchè la pitlane abbastanza corta però un 15 li ha fatti perdere forse non ce l'avrebbe fatta però cioè adesso si è vista anche lontano quindi non ha spinto neanche tanto al massimo può essere però secondo me poteva prendere si se ci metti anche le due virgo eh si virgo che tra l'altro Vespa e De Grecciupac hanno sfidato al massimo perchè hanno fatto il pitstop sotto la prima virtual Vespa praticamente da quel pitstop è arrivato fino in fondo e sta andando a vincere praticamente la gara sta iniziando infatti l'ultimo giro del GP da Abu Dhabi ultimo appuntamento della Super League il primo settore affrontato per Vespa e ne mancano solo due e poi andrà a concludere in bellezza con De Grecciupac a 34 secondi a 8 Prodizia a 20 secondi Gioia a 40 Andrea a 1 minuto e 15 e Mix a 1 minuto e 32 quasi doppiato dal compagno magari si farà doppiare per evitare di farsi un ultimo giro da solo praticamente vediamo eccolo qua Vespa nel secondo rettilineo DRS concludere il secondo settore inizia il terzo settore sinistra a destra a sinistra poi ancora a sinistra adesso una delle curve più difficili del tracciato frenata con la macchina di traverso dopo una curva veloce a destra ancora a destra poi a sinistra tantissime curve a 90 gradi di questo circuito di Abu Dhabi Vespa che stanno da prendersi la vittoria ultime due curve per lui per festeggiare i sottifuocchi di artificio eccolo qua Vespa ultima curva a destra e Vespa va a vincere il GP di Abu Dhabi che è una premia totalmente in solitaria per lui sta arrivando anche Dado una gara direi abbastanza buona tocca anche il muro abbastanza anche sfortunata per il pilota della Sauber che però si prende il secondo posto il secondo posto in classifica generale però sta arrivando il pilota della Red Bull del Green Cupac quindi staranno a prendere la terza posizione in generale festeggia rischia di rompere ma finisce quella macchina praticamente è distrutta davanti a Joy che passa adesso quarto gara delle sue diciamo perché alla fine è sempre rimasto la costante sempre a podio nelle prime cinque posizioni Andre sta arrivando gli pochi d'artificio sono già alti nel cielo ultimato curva per Andre tanto direi di votare l'MVP diamo tu chi voti eh direi un verso come fai non può fare vabbè anche io però direi anche c'è Tato Izzy anche Dado comunque è stato bravo dai sì sì un'ottima invece De Greciupac diciamo ha sbellato un po' la strategia forse forse doveva mettere anche lui le soft quando si ferma tanto sta arrivando Mix conclude il sesto e si conclude qua l'ultimo gran premio della Super League con Bespa davanti a Dado Izzy e De Greciupac che provvederemo ad invitare nel party per l'intervista e post gara poi abbiamo Gioi quarto e poi Andre e Mix quinto e sesti senza penalità come il vincitore invitiamo i primi tre allora Dado Izzy Ne Greciupac e Bespa che non lo trovo eccolo qua ne attendiamo che i piloti arrivino ecco qua De Greciupac buonasera a tutti buonasera una domanda scusate ma io sono arrivato terzo sì 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 terzo ok quanti di penalità aveva Gioi lo aspettavo e sì anche terzo in generale eh sì ho notato ma andato quanti secondi di penalità aveva Dado tre eh bravo aspettiamo best l'avete invitato best sì sì cali di tensione bravo bravo grazie ecco qua Bespa non solo ciao Bespa hai consentito voce? ciao come? hai consentito voce? eh sì un attimo che controllo sì sì consentito sempre perfetto allora partiamo con l'intervista post gara terzo classificato The Great Chupac buona buona però hai sbarato forse la strategia sotto la virtual safety car potevi mettere le soft e arrivare come best pochino in fondo allora c'è stato un attimo un disguido prima cosa avevo un consumo stranissimo infatti si consumava tantissimo poi sono crashato il consumo aumentato ancora di più e quindi di questo non me ne capacitavo e il crash diciamo che purtroppo non ha fatto del bene la mia gara però vabbè sì infatti hai perso più o meno è capitato sono rientrato presto per fortuna però mi sono fatto passare da Vespa unica nota positiva della gara è stato quel doppio sorpasso sì dini che l'hai visto sì sì l'abbiamo visto l'hai visto? sì sì è stato bellissimo diciamo devi ringraziare Bonura perché ha un po' plegato Vespa e tu ne hai approfittato si è stato un sorpasso abbastanza al limite poi me lo riguardo vabbè comunque è entrata la virtual safety car e io avevo le soft ormai a fine della loro vita e mi sono detto avrei lungato di qualche giro per poi fare ultra e ultra però mi sono detto perdo meno tempo entrando sotto la virtual e quindi sono entrato ho messo le super e poi ho dovuto mettere un'altra volta le ultra e fa niente il fatto è che sono molto dispiaciuto per l'usura delle gomme infatti sono dovuto rientrare al terzo giro con le ultra eh sì ti abbiamo visto infatti eravamo un po' dubbiosi sul fatto che magari tu volessi fare qualche undercut eh no il fatto è che vabbè avevo questo problema alle gomme calcola che al rettilineo del primo giro sono andato a vedere erano al 29% e nella casa è inimmaginabile e niente è successo questo vabbè però lascio posto agli altri comunque qualifica buona come ho promesso stasera coca e mignotte perfetto quindi terzo posto e terzo posto anche in generale per un punto per uno sì sì per un punto ah no forse no no eri 12 punti quindi 3 punti eh sì 3 punti 3 punti 3 punti perfetto allora passiamo al secondo classificato Dado Inzi qualifica ti abbiamo visto fare un buonissimo primo settore poi sei nato lungo e hai abortito il giro quindi sei partito con le soft e poi l'hai iniziata la tua rimonta e sei arrivato fino al secondo posto sì per quanto riguarda la qualifica purtroppo cioè allora il primo settore non so neanche come l'ho fatto in minuto non credo arrivo al dopo il rettilineo alla staccata per la chicane per le due curva a gomito e arrivo lungo toccando anche il dissuasore evidentemente volando via e per quanto riguarda amici la gara partenza ho visto diciamo un'orgia di massa per cui passare davanti quarto giro mi ritrovo praticamente primo se non secondo non mi ricordo e allora continuo fino a che non faccio la sosta però la sosta viene condizionata ovviamente dalla virtual e già da lì le mie speranze di vittoria erano già al ritmo nonostante ciò ho continuato e diciamo che me la sono piuttosto cavata purtroppo oltre il danno anche la beffa l'uscita dalla seconda che mi ha dato definitivamente l'avanzata dopo essere uscito dai box ovviamente non solo oltre il danno alla beffa ma anche la beffogna il track true si ti abbiamo visto fermi in pista infatti come hai fatto perché praticamente io per riuscire davanti a te ho accelerato però uscendo dalla corsa box mi ha dato il livello diretto c'è il suicito dalla linea no 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 sono andato ho finito la pitlane e sono andato nella corsa box appena l'oltre passata mi ha dato il livello ma perché stai andando veloce eh ho capito però non c'è il il delte era praticamente verde non era rosso eeeh però comunque diciamo che era patata sfortunata ha dato si lo so purtroppo c'è cotevo sicuramente abita l'altro però mi va benissimo così intanto abbiamo due dislike nella live non sia per quale motivo stupidi haters comunque Nico posso chiederti se puoi invitare anche Joy che ha vinto il campionato vabbè l'aveva già vinto c'è sì infatti ok ok lo invito allora Joy allora passiamo quindi al vincitore al vincitore Vespa sì gara ottima hai fatto un buonissimo giro in qualifica e poi gara praticamente di solitaria poi sei stato abbastanza fortunato con la virtual e poi là diciamo hai gestito fino in fondo beh no non è andata così devo dire la verità è stata molto più sembrava tutto in gestione in realtà non è perché vabbè è tolta la qualifica insomma non ha fatto la volta e in gara vi aspettavo vi aspettavo che vinci facesse un undercut pensavo fosse un undercut anzi aspetta prima di non dire una cosa non ho scusato a fare una premessa con la qualifica per essere un vero disgraziato vinci eh ti sei messo in scia a me nell'ultimo giro e mi succhiava da scia fino all'ultimo giro ma lo sai che ero sotto di quattro decimi al 38.9 lo so e poi lo so porca puttana infatti ho trovato davanti c'e me man credimi che ero tentato a piantare freno ti dico la verità l'ultimo senso perché ho detto ma guarda che baccata che mi sto facendo ma sì ma perché ho visto mi sono ho detto mi prendo best poi come ganci di traino no e ad un certo punto vedo c'e me man in mezzo alla pista bandiere gialle io non capisco niente mi rincoglionisco e niente perdo quattro decimino una curva cioè mi hai preso in due rettilinei mi avevi agganciato proprio e lì dietro ed ero veramente ora adesso ho pianto freno e baffanculo ho detto così non mi deve fregare ma qualifica ma comunque eh vabbè scherzi a parte e passiamo alla gara no la gara è stata molto complicata perché dopo il terzo giro tu ti sei fermato io mi fermo subito perché volevo sono fatto coprire una strategia ti esco davanti di un soffio ma esco dietro Bonura Bonura bene la fase di sorpasso ormai ero davanti dopo che l'avevo sorpassato mi tira mi tira staccato da largo sul cordolo poi mi tira una frenatona mi becca in pieno davanti e mi sbecca l'ala l'ala che poi non ho potuto più cambiare si infatti poi la te l'abbiamo visto infatti anche io l'ho detto in live che avresti avuto soffrendo tantissimo nelle curve a destra nel curvone nel primo settore perdevo almeno 3-4 decimi da chiunque fortunatamente qui le curve erano quasi tutte in destra quindi ho cominciato un po' speravo di tenere il ritmo quando ho visto poi dato davanti e non lo raggiungevano nonostante avessi le gomme nuove dopo la sosta gli ho capito che la gara era molto più complicata perché pensavo vabbè si ferma la sosta usciamo più o meno a Siena poi vediamo come va in realtà la virtual safety car è stata l'unica cosa positiva per me perché la gara era diventata complicatissima perché la macchina a destra non girava e niente quindi quando ho fatto così quei secondi che avrei avuto in realtà grazie alla virtual mi sono messo dietro ma vedevo che comunque perdevo speravo ho detto vabbè magari si ferma magari lo raggiungo alla fine in realtà poi ti sei fermato dato e vabbè poi hai avuto le tue disgrazie magari è finita così ma senza incidenti sta molto più difficile cioè senza incidenti per te intendo per me sarebbe stata molto più difficile perché quella la io ho provato a cambiarla durante la virtual ma non me l'ha cambiata ho detto ma vaffanculo di nuovo la stessa cosa è proprio è molto difficile per gestire la macchina così mi andavi proprio via nel furbolo comunque quinta vittoria in otto gare sì vabbè a parte risultato dico è stato molto sudato se non c'è sticarne non credo comunque va bene sì mi dispiace perché si dà il quarto giro si dà il quarto giro ho avuto questo problema a Bonura non capisco perché si è luttato due volte ha rischiato di magari due volte non capisco perché non so se hai visto Vinci se io ero completamente all'interno mi ha chiuso e ci siamo toccati ero io con lo stesso tutto girato è un po' come Rosberg con Verstappen ce l'hai presente la stessa cosa però così insomma un po' al limite perché era non aveva senso in quel momento ma ormai è andato va bene grazie mille passiamo vabbè a Joy che ci racconterà un po' la sua gara ciao Joy per l'intero campionato perché sono partito quarto e mi sono fatto avevo un passo molto migliore di quelli dietro di me più o meno un secondo quasi un secondo e mezzo migliore al giro e dai primi tre davanti invece perdevo anche lì un secondo e mezzo al giro quindi non ho molto da raccontare anche se un quarto posto non è sempre da non è da buttare via vabbè diciamo dei tuoi perché alla fine sei sempre stato costante ed è anche quello che ti ha portato a vincere il campionato beh sì sì anche io giro in vero questo vabbè ragazzi io direi che possiamo chiudere ma io posso fare una domanda Joy per piacere se possibile allora prima cosa che cosa ne pensi del della mia del mio crush e seconda cosa raccontaci un po' del campionato diciamo com'è che l'hai vinto secondo te vabbè oltre alla costanza in che gara l'hai vinto in che gara hai sentito che l'avresti vinto allora la gara adesso ricordarmi bene penso di averlo vinto forse in messico l'hai vinto ah vabbè no cioè officialmente in messico ah spazi con la vittoria con la vittoria che hai fatto e stendere che è arrivato molto indietro lì ho iniziato veramente a crederci e poi da qua basta che controllo fino alla fine ed è fatta mentre per il tuo lag ma sto lagando in gara no io non non ti abbiamo visto lagare vabbè se posso aggiungere una cosa comunque compresi commentatori che hanno già risposto a questa domanda come vi siete trovati quest'anno nel sito a parte gioia e pipa che ovviamente sono qui da più tempo domanda rivolta teleconico Yamatti e Bespa cominciamo da teleconico vabbè noi abbiamo già risposto alle interviste di lunedì però vabbè vabbè mi sono trovato benissimo cioè comunque è una bellissima community gente diciamo sia simpatica che competente cioè la combo ideale diciamo per trovarsi bene in un forum Migo ma anche a Suzuka vabbè ovviamente ci sono delle gare in cui scleri e poi altre dove ti diverti e ti va diversamente ma è giusto così era una battuta live certo tu i amo quella che mi ritorni è stato bello è durato poco perché non abbiamo iniziato all'inizio però anno prossimo continuiamo best ma allora sì io ho conosciuto il forum grazie a Luca Polonato e devo dire che sì vabbè non ho trovato con tutti quanti non ho avuto partito unica cosa voglio dire non so insomma un'altra sul forum se può esservi di aiuto perché secondo me è meglio un po' curarlo perché quando secondo me deve essere un po' la base per sì ma ci stiamo già lavorando ah perfetto da attuare già dal prossimo anno e per quanto riguarda sempre best già dall'anno scorso tu stesso corsi qualche gara qui con noi se non ti se ti ricordi certo sì 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 ricorda 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 questo è il quanto signori noi ci vediamo penso settimana prossima per qualche video aggiornamento per qualche evento visto la fine dei campionati e vi auguro buonanotte da tutto lo staff di The Racers per questa avventura di entrambi i campionati di Junior e Super noi ci vediamo la settimana prossima quando sarà buonanotte ciao ragazzi buonanotte a tutti grazie a tutti buonanotte 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 buonanotte